Facciamo una prova di autoclave nuovo Marco, apro al minimo, il rumore si sente appena, bisogna usare di più, il flusso esce fluido, questo è il rumore, la pompa di Sentina sta qui dentro, c'è la pompa dell'acqua, se aumentiamo al massimo, sono i rubinetti comunque dotati di un vittore di pressione, il flusso è sempre costante, vedete come modula la velocità come se fosse un inverter, il flusso è sempre costante.